Un caro saluto da Francesco Savani. In questa lezione desidero parlare in merito all'attività didattica nei processi comunicativi. Un'attività didattica è fondamentale il processo e il trasferimento dell'informazione. Che avviene attraverso sicuramente codifiche verbali, come linguaggio verbale, e codifiche non verbali, ad esempio la gestualità. Tenete presente che questa parte è di grande valore. Poi è anche importante considerare che il docente, colui che è docet, insomma, che insegna, è sempre un modello. Quindi il docente è un modello e quindi un punto di rifiedimento per i propri studenti. E quindi assume su di sé, in quanto modello, delle responsabilità. Sicuramente etiche, morali, didattiche, organizzative, eccetera, eccetera. Il docente è colui che prepara l'attività didattica. Prepara e organizza l'attività didattica. E questa attività didattica può avere un rendimento, oppure un'efficacia. che, ovviamente, va di pari passo alla qualità della comunicazione, nella quale vi è uno scambio di variabili di varia natura relativi alla tematica che viene affrontata. In particolare, vi è uno scambio di informazioni e, andando a fare delle piccole valutazioni relative all'etimologia dell'informazione, essa deriva dal latino informo che significa dare forma e plasmare. Quindi l'informazione crea una forma e determina a ciò che è confuso ed indeterminato una situazione di maggiore chiarezza. Quindi, che cosa ci dà l'informazione quando è valida? Diminuisce o addirittura elimina l'incertezza? Il dubbio. Molti di voi hanno dubbi relativi a questi concorsi. Perché? Anche perché le informazioni che ci vengono, vi vengono date, non sono precise, incontrovertibili, non soggette a interpretazione. Per cui voi dite, va bene, c'è questo concorso, devo fare A, B, C e D, mi preparo su queste tematiche, bene, sono pronto. Purtroppo, c'è tanta confusione e caos, e quindi l'intelligenza e l'abilità che in questi casi viene richiesta, è anche la capacità di ordinare quello che purtroppo non è ordinato. Quindi, anche se a voi arrivano delle comunicazioni non omogenee, non chiare, non inequivocabili, voi dovete cercare di arrivare al target relativo a quello che sarà il vostro concorso. Cioè, essenzialmente, dovete cercare di capire com'è il concorso. Stavo scrivendo 2200, spero che si farà prima del 2200, anche se le informazioni sono frastagliate, incerte, quindi c'è incertezza e sicuramente c'è bisogno di avere informazioni che possono cercare magari di eliminare quelle cose che non servono per andare in una direzione che sia targettizzata, che abbia come target la riuscita del concorso. Ma torniamo a noi relativamente all'attività didattica. Ovviamente, l'attività didattica, abbiamo detto, deve essere gestita in funzione di un rendimento che possa essere il più elevato possibile e questa gestione deve tener conto del tempo a disposizione, ma anche l'esame che voi farete dovrà tener conto del tempo che avrete a disposizione per ogni singola risposta. Io, nello specifico, ho cercato di dare risposte a tutti i quesiti, magari se avevo una media di 20 minuti a quesito, rispondevo in 15 minuti e poi se mi avanzavano 20, 30, 40 minuti, rileggevo il tutto e poi cercavo di aggiungere, quindi di portare al completamento la risposta scritta e quindi di dare una risposta più completa, quindi di andare più verso la completezza. Perché? Perché comunque la risposta non data avrebbe avuto valore zero. Anche una risposta data in maniera sintetica avrebbe comunque avuto un valore maggiore a quello di zero. Relativamente alla gestione dell'attività didattica, sicuramente sono fondamentali le esercitazioni, come ho detto nei precedenti video, relativamente alle metodologie didattiche. sicuramente le verifiche sono importanti sia per lo studente che si può rendere conto del proprio livello di maturazione e di comprensione, sia per quanto riguarda l'insegnante per arrivare a una valutazione e sicuramente è importantissimo anche la partecipazione. È importantissima, tant'è che se... cioè io quando vi dico vedrò come andrà il video, se ci saranno pochi commenti, poca partecipazione, poche visualizzazioni, probabilmente il mio video in linea di massima sta fallendo e allora se sta fallendo c'è qualcosa che non va. Certo, io sono una persona che legge molto, quindi so benissimo che in questo campo, soprattutto nel campo di YouTube, va molto che cosa? Quello di capire quello che gli utenti vogliono. e sicuramente siamo in un periodo anche sociale dove video comici, nel migliore dei casi alla Mr. Bean, o di make-up, o di dimagrimento, eccetera, eccetera, hanno tantissimo, tantissime visualizzazioni. Piuttosto che video in cui gli autori mangiano pizza per 20 giorni e dimostrano che non muoiono. Quelli hanno tantissime visualizzazioni. Però c'è anche, da parte mia, una professionalità che non vuole a tutti i costi accomodare e andare nella direzione di ciò che viene richiesto. Quindi, se vengono richieste scemenze, allora io produco scemenze, perché così avrò successo. Per me quello non sarebbe il successo. Per me il successo è quello di cercare, tramite soprattutto voi, di dare una direzione diversa alla nostra società e ai video che vengono pubblicati, cercando di creare video con contenuti culturali che non siano solo video di dibattiti politici dove vengono ripetute sempre le stesse cose in forma diversa, dove magari ci sentiamo in un qualche modo vittime, dove veniamo, non tutti, e alcuni di noi vengono manipolati e quindi perdiamo ore e ore del nostro tempo a sentire cose che poi di fatto nella vita quotidiana e di tutti i giorni non ci cambiano nulla, non ci cambia nulla, ma sicuramente non ci aiutano ad essere più felici, ad essere più consapevoli, ad essere più indipendenti, più liberi. Sono video, secondo me, limitati e limitanti. Ovviamente sono video da tenere in considerazione, soprattutto quelli di informazione, perché l'informazione è utile, cioè solo chi conosce, solo chi sa, può prendere delle decisioni consapevoli, però purtroppo il livello medio di cultura e di informazione che girano su internet sono veramente bassi e allora, secondo me, spetta a noi cercare in un qualche modo di dare un contributo per migliorare ciò che troviamo. Nella gestione dell'attività didattica parimenti importanti sono i dati quali l'età di chi vede i video ad esempio nel mio canale l'età media va da 24 fino ai 40 anni quindi sono tutte persone medio adulte che probabilmente si stanno preparando o stanno migliorando la propria attività professionale il background culturale a mio avviso anche leggendo i commenti io ho a che fare con un pubblico altamente qualificato dove e mi scuso in un video ho commesso un errore di divisione ho diviso avrò detto una cavolata del genere 24 diviso 11 fa 2 con il resto di 1 magari ho detto una cosa del genere probabilmente perché ero stanco e sono felice che in tanti me l'avete fatta notare quindi sicuramente le persone che seguono questo canale hanno una cultura e delle capacità superiori alla media anzi è superiore alla media il fatto che in una situazione di tale sociale di difficoltà a causa del covid quindi difficoltà di salute e difficoltà economiche ci siano delle persone che ancora capiscono e credono nella cultura nell'importanza della cultura proprio oggi parlavo con una nostra collega e vi do un suggerimento andatevi a leggere il mito della caverna di vi scrivo Socrate e Platone in realtà Socrate non Platone era uno studente di Socrate fu uno studente di Socrate però Socrate in realtà non scrisse nulla cioè ci rimane quasi niente di quello che scrisse lui però Platone racconta tanto relativamente alle esperienze di Socrate quindi secondo me il mito della caverna è importantissimo proprio relativamente al discorso che facevo io di uscire da questa fase di incatenamento nella quale la nostra società è obnubilata ed è offuscata da informazioni che ci disorientano e probabilmente coloro che cercano di vedere la luce di vedere la verità vengono allontanate perché perché non si uniformano a quello che è la norma perché non convergono verso quello che è trasversalmente accettato sicuramente io faccio dei salti tra una parlare il discorrere dell'attività didattica e la contestualizzazione sociale perché sicuramente è importante riuscire a creare anche dei collegamenti tra la parte nozionistica e la nostra situazione sociale il numero di componenti di studenti di persone le esperienze personali che vi invito anche a condividere gli interessi eccetera eccetera detto ciò quindi i fattori fondamentali che determinano la gestione e l'impostazione dell'attività didattica sono siccome il gruppo il nostro gruppo è anche eterogeneo perché fortunatamente siamo insegnanti o laureati che provengono da diverse discipline quali sono la materia di insegnamento come ripeto prima il tempo per poter gestire la lezione i tipo gli allievi come sono gli allievi nel mio caso siete molto preparati e molto devo dire anche gentili perché avete cotto la mia richiesta di condividere questi link perché molti mi dicono ma dove si trovano i materiali probabilmente tramite facebook tramite qualche canale di studio di ricerca qualche gruppo provate a condividere questi video tra l'altro a mio avviso avere solo un riassuntino o una sintesi su come prepararsi al concorso secondo me è riduttivo perché intanto la sintesi se l'è fatta personalmente specificatamente quella persona lì che magari ha captato e valutato e sintetizzato gli elementi che per quella persona erano più importanti però secondo me avere una visione di insieme cioè riuscire a andare dallo specifico al generale dal generale allo specifico è importante perché è vero il nostro mondo tende sempre di più a farci diventare dotti in maniera specifica cioè a farci diventare bravissimi in un campo molto ristritto di cultura perché la cultura sicuramente è diventata molto vasta e sicuramente siamo pieni di persone specializzate cioè nella nostra società emergono tanto le persone che si specializzano in un piccolo campo ad esempio un un oculista o che ne so un ortopedico che sarà bravissimo solo e meramente in quel campo lì che non avrà una visione olistica una visione di insieme della persona e quindi se ad esempio andrete da un medico e queste cose non le dico io me le dite voi nei vostri commenti perché magari avete un problema di sciatica la prima cosa che pensa che ne so avete un'ernia non è che dice vabbè ci può essere dietro un disturbo da stress un disturbo psicologico un disturbo di alimentazione un disturbo di come vivete eccetera eccetera cioè ovviamente questa grandissima specializzazione che perde la capacità di vedere nella totalità il soggetto e quindi in questo caso se parlo di medici il paziente secondo me è limitante e limitata e quindi a mio avviso noi c'è la cultura e la nostra scuola e le nostre università dovrebbero andare in una direzione in cui la complessità della vita non deve essere troppo semplificata per cui i medici e le persone che ci gestiscono e che quindi sono al comando anche di determinate decisioni magari hanno una visione molto ridotta della realtà ed è anche questo uno dei motivi per cui siamo fallimentari nella politica nella gestione delle nostre risorse e nella gestione della nostra società e quindi detto ciò è ovvio che io parlavo della società e dell'ambiente è ovvio che l'attività didattica e la gestione devono tener conto dell'ambiente quindi andando oltre sono importanti i prerequisiti ossia la conoscenza pregressa che si ha relativamente ad una determinata conoscenza o questione ed è importante fissarsi degli obiettivi raggiungibili mi raccomando perché quando gli obiettivi sono troppo grandi poi magari non li raggiungiamo e che cosa subentra la frustrazione quando insomma si deve parlare a tante persone le quali vogliono solo una risposta non interessa tutto il resto ovviamente in questi casi può essere importante è importante sicuramente la capacità di sintesi cioè quelle persone che vogliono arrivare subito all'obiettivo però non gli interessa il percorso di crescita ok questo a mio avviso può essere sbagliato però io devo anche confrontarmi con quello che c'è scritto in letteratura perché ovviamente io non mi voglio inventare niente io vi dico il mio punto di vista però devo dire anche il punto di vista di tanti pedagogisti e di tante persone che lavorano nel mondo della scuola ovviamente come dicevo anche in altri video è importante eseguire passi logici consecutivi che abbiano una direzionalità che possono condurre gradualmente lo studente alla comprensione e la cosa più importante di tutte secondo me è che cosa insegnare un metodo insegnare il modo in cui ragionare il modo in cui bisogna porsi di dubbi il modo in cui bisogna essere sempre umili il modo in cui dobbiamo essere consapevoli che sapere di non sapere è già tantissimo la lezione deve essere arricchita quindi con dei facilitatori e questi facilitatori possono essere degli esempi non solo qualitativi ma anche quantitativi ossia quello che viene toccato con mano attraverso l'esperienza si capisce decisamente meglio è importante anche se la lezione ha una durata di 3-4 ore fare delle pause dei break perché oltre i 30 minuti il livello di concentrazione scende è importante la ripetizione e la ricorsività ripetita you want questo lo potete trovare anche in altri video nella gestione sono importanti gli strumenti quali le aule i laboratori gli ausili alla didattica quindi potremmo mettere anche le TIC le tecnologie innovative di comunicazione quindi la tecnologia offre in termini di ausili alla didattica grandi possibilità ma non bisogna mai perdere di vista l'obiettivo primario che è quello di insegnare in maniera efficace in tutto ciò quello che deve essere alla base di tutto quello che deve essere dato per scontato e quello che vi consiglio io anche magari contro i miei stessi interessi a mio avviso il 70% del vostro tempo dedicatelo cioè voi dovete essere altamente preparati sulla parte nozionistica poi sicuramente un altro 30% tutto il resto quindi la parte normativa la parte delle metodologie didattiche piuttosto che le TIC piuttosto che gli studenti BESS eccetera eccetera perché di sicuro avrà una rilevanza decisamente importante per coloro che faranno il concorso ordinario nella prova scritta questa parte ossia la parte relativa al programma di studio che dovrete conoscere bene sarà importantissima sarà altresì importante per prendere un voto maggiore quindi avere maggiori probabilità di vincere il concorso anche tutta la parte di contorno per coloro che faranno il concorso straordinario invece purtroppo per fortuna si dovranno esercitare anche su tutte quelle questioni relative alla prova preselettiva nella quale questione sicuramente le proprietà logiche e gli esercizi di logica hanno un aspetto determinante quindi nell'altro concorso io inizierei sicuramente con quello che potrebbe essere il primo scoglio quale può essere ovviamente la prova preselettiva perché purtroppo se non si supera quella si viene bocciati e tutto il resto viene di meno farò se ci sarà richiesta e se vedrò che i miei video avranno un discreto successo io non è che voglio arrivare a 100.000 visualizzazioni perché capisco che il mio bacino di utenza le persone che possono essere interessate a queste cose sono poche hanno molto più successo quelli che parlano di giochetti parlano di diete parlano di politica lo so che queste cose io passo andando controcorrente seppur consapevole perché ovviamente il mio obiettivo non è quello di diventare uno youtuber famoso ma il mio obiettivo è quello di essere un modesto e discreto insegnante quindi per quanto riguarda l'insegnamento è importante quindi conoscenza dell'argomento quindi anche per il vostro concorso la dialettica cioè il saper comunicare e saper scrivere e saper riferire anche oralmente quello che vi viene chiesto è la capacità di fare degli esempi tutto ciò suscitando un minimo anche di interesse suscitando interesse perché tante volte è la curiosità che smuove le nostre menti interesse barra curiosità che nasce che nascono meglio ancora dall'utilità che si percepisce relativamente a quell'insegnamento lì quindi le lezioni abbiamo detto che possono essere di tipo teorico sperimentali esercitazioni laboratoriali eccetera 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 dipende dalla vostra classe di concorso e con questo dato che io sono arrivato a oltre 27 minuti di video io con questo vi saluto se questa lezione avrà successo ci saranno tanti pollici in su tanti commenti tante visualizzazioni certamente continuerò a proporre video lezioni di questo genere io sto cercando essenzialmente di capire come i miei interventi vengono recepiti da voi che alla fine siete le menti giudicanti non posso io non posso assolutamente pensare di essere bravo solo voi potete dirmelo o di essere un discreto insegnante e la mia volontà adesso è quella di mettere a disposizione le mie conoscenze di vincitore di concorsi e di preparatore ho preparato diverse persone a prepararsi ai concorsi voglio mettere come voglio essere disponibili gratuitamente a darvi queste risorse con questo vi do un caro saluto da Francesco Samani alla prossima lezione saluto